Non possono venire, però comunque i nostri compagni, magari il nostro cuginetto, il nostro dovergine, che l'anno prossimo non è sicuro che possa scegliere l'investore per queste queste, perché comunque è la primavera di un'idea dei dati più a Pellimonte, perché quando abbiamo detto un paese è un po' scorsonato, diciamo, è una cosa davvero all'avanguardia dal nostro punto di vista, perché prima non era così, e quindi non eravamo che sia infettata questa cosa che mi si è portata avanti, perché a me mi diciamo, il parere di noi è il nostro cibo, che vogliamo essere, per noi si amare, si che imparare, ma non è meglio di questo, però non venivano ascoltare. Bravo. Brava, Madi!